Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio road to glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per la quarta volta 4 video ragazzi per parlare di football 2024. In questo nuovo contenuto vi mostrerò delle immagini davvero molto interessanti, che potrebbero provenire o dalla Master League o, secondo me più probabilmente, dalla nuova modalità liccata da Durand il PES, chiamata appunto che si dovrebbe chiamare My League. Adesso vi dirò di più, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Ragazzi, questa parte è fondamentale, soprattutto quest'oggi mi sto impegnando davvero tantissimo per portarvi tutte le news, tutte le indiscrezioni sul nuovo gioco, quindi supportatemi con un'iscrizione, attivando la campanella, ma soprattutto lasciando un bel like a questo contenuto. Lo sapete, più like ci saranno, più video di questo tipo riporterò sul canale. Se anche questo contenuto andrà bene, magari questa sera uscirà anche il quinto video. Come sempre vi chiedo anche di passare alla descrizione, all'interno di quest'ultima troverete tantissimi link utili, come il mio profilo Instagram, o un gruppo Telegram che trovate anche nel commento fissato in alto, con all'interno più di mille membri, dove potrete parlare di football e non solo, anche alcuni canali consigliati, tipo quello del buon AleBenn86. Sto aspettando un tuo video per oggi, caro Ale, so che tu sei sempre qui sul canale, quindi pubblicaci un video. Ok ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo e andiamo subito a dare un occhio a queste immagini, a queste immagini che vi voglio mostrare quest'oggi. Provengono da Durand il PES, quindi sono leak che provengono dai file di gioco, ragazzi. Quindi non si tratta semplicemente di parole, ma proprio di immagini. In questo caso sono scene di intermezzo negli spogliatoi, mentre la squadra festeggia con, e questa è la cosa più interessante, a un certo punto si vede un trofeo. Si vede il trofeo Ligan, che chiaramente ha la licenza ufficiale. Andiamo a vedere. Eccolo qua. Eccolo qua il trofeo Ligan. Quindi probabilmente è qualcosa legato all'offline, come ci hanno appunto l'iccato influencer, come Durand il PES. Ed è qualcosa, secondo me, molto molto probabilmente, legato alla nuova modalità MyLeague. Ma non è manco sicuro che uscirà adesso, questa nuova modalità, domani. Non si sa. Dovrebbe uscire in eFootball 2024. E non abbiamo capito ancora se andrà a sostituire la Master, o se sarà una modalità parallela alla Master. Comunque, questa scena di intermezzo è molto bella, manca solo l'allenatore, come ci fa notare anche il buon Durandil. E secondo lui è ispirata ad alcune mod che aveva fatto lui per PES 2020. Cioè, ad esempio, questa è quella trovata nei file di gioco, ok? Che dovrebbe essere o della Master League, ripeto, o della nuova modalità MyLeague. Questa, invece, è una mod per PES 2020 creata da Durandil, dove lui ha creato questo festeggiamento negli spogliatoi. Beh, secondo lui, e anche secondo me, perché è molto simile, Konami ha preso ispirazione da questo modder per creare questa scena di intermezzo. Ma non è l'unica scena di intermezzo trovata da Durandil, diciamo, nei file di gioco quest'oggi. C'è anche questa brevissima, davvero molto breve scena di intermezzo dopo aver vinto la partita di dei tifosi che festeggiano. E possiamo notare come ci sono dei volti nuovi, delle facce nuove nei tifosi, facce anche non fatte in maniera malvagia, secondo me, un po' più realistiche di quelle che avevamo prima. Anche in questo caso Durandil ci dice che queste immagini sono ispirate alla sua mod di PES 2020. Queste erano le immagini create da Durandil PES su PES 2020. Effettivamente sono molto, molto simili. Allo stesso tempo, però, sempre Durandil, e il tweet è stato ripubblicato da Galvani, ci fa notare che innanzitutto Konami ha cancellato la roadmap con nominata la Master League all'interno. Dicevo, non esiste più la possibilità di andare a guardare questa roadmap sul sito ufficiale perché è stata cancellata e ci dice anche che di quello che c'è scritto nella roadmap attualmente Konami ha rispettato solo la modalità COP, cioè è arrivato solo la modalità COP. Probabilmente hanno tolto questa roadmap per un cambio di strada. Possibilità uno, o la modalità My League va a sostituire la Master League oppure hanno intenzione di far uscire tutte e due le modalità in tempi molto brevi secondo me ragazzi soprattutto se sono state scovate queste immagini. Bene ragazzi io direi che per questo video può bastare così fatemi sapere nei commenti che ne pensate di queste nuove immagini secondo voi a che appartengono alla nuova modalità My League oppure alla Master League e sicuramente appartengono a qualcosa perché c'è il trofeo della Liga e un festeggiamento negli spogliatoi dopo aver vinto un titolo fatemi sapere la vostra nei commenti io come sempre vi ringrazio per essere stata in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio un saluto alla vostra Simo Play bella ragazzi un saluto un saluto Grazie a tutti